Ciao ragazzi, il Napoli di Spalletti ha vinto per 5-1 sulla Juventus di Allegri dominando la partita e in questo video andremo a vedere quali sono stati i temi tattici del match e perché i partenopei sono stati così superiori. I padroni di casa si schierano in campo con l'1-4-3-3 contro l'1-3-5-2 della squadra di Allegri. Qualche numero generale sulla partita dove il valore di expected goals per il Napoli è stato di 2-24 quindi ha segnato più di quanto ci si aspettasse dalle occasioni che ha creato anche se sono riusciti a trovare ben 10 tiri in porta e a mantenere un possesso palla del 60%. Partiamo proprio da quest'ultimo dato, la squadra di Spalletti ha mantenuto il controllo del gioco praticamente per tutta la partita e in fase di costruzione ha avuto la possibilità di rimanere sempre con un baricentro molto alto perché la Juventus rimaneva invece molto conservativa. Questa fase di costruzione alta vedeva inizialmente questo sistema 4-1 con la Juventus che andava a gestire gli esterni bassi con le due mezzali quindi Rabiot su Di Lorenzo e McKennie su Mario Rui mentre i due attaccanti rimanevano a gestire Lobotka e i due difensori centrali. Spesso i padroni di casa hanno variato questa struttura andando a costruire a tre con Rachmani centrale, Kim che si allarga sulla sinistra e Mario Rui che è libero di avanzare sulla corsia laterale. In questo modo riuscivano a creare superiorità proprio in zona esterna e in una delle prime azioni della partita il passaggio Kim per Varazkelia che viene incontro e Danilo che è costretto a rompere e Ozyman va ad attaccare la profondità alle spalle del numero 6 ma tutte queste situazioni le vedremo più nel dettaglio fra poco. Un'altra soluzione per costruire a tre è stata anche quella di abbassare direttamente lo Botka fra i due difensori centrali e gli esterni bassi liberi di avanzare in particolare Di Lorenzo che veniva anche dentro al campo. Ma perché questo variare la struttura di costruzione ha portato vantaggi al Napoli? Innanzitutto perché la Juventus andava a difendere sempre nella solita maniera con Rabiot su Di Lorenzo, Di Maria e Milica a gestire il play sempre in maniera conservativa anche qua vediamo che il non possesso della Juventus è decisamente passivo e molto basso sotto la metà campo. Con una ricerca dell'ampiezza da difensore laterale a difensore laterale Kim poteva avere molto spazio rispetto alla mezzala la quale si trovava in inferiorità perché doveva andare a gestire sia Kim che Mario Rui questo perché il quinto di centrocampo della Juventus chiesa rimaneva impegnato con Varazkelia molto largo. Dalla lavagna tattica capiamo meglio questa situazione con i due esterni offensivi del Napoli molto larghi la struttura di costruzione che da 4 più 1 diventa 3 più 1 e proprio questa inferiorità dei giocatori della Juventus sul lato sinistro del Napoli con Kim e Mario Rui in superiorità rispetto a McKennie e Varazkelia che mantiene basso e impegnato chiesa sull'esterno e quindi proprio o il numero 3 o il numero 6 del Napoli possono avere spazio per condurre ed effettuare la giocata verticale. Oltre a questa tendenza tattica ovviamente una caratteristica del Napoli è quella di mantenere il possesso del pallone con passaggi corti rapidi nello stretto e continuare a muoversi sulle catene laterali e questo portando molti uomini sul lato palla. In questa situazione i tre centrocampisti sono vicini a Di Lorenzo e Politano e poi con uno scambio avanti dietro si va a giocare in ampiezza dalla parte opposta dove Varazkelia può controllare e andare a sfruttare l'uno contro uno. Stessa cosa che succede anche a lati invertiti quindi andando ad isolare Politano dalla parte opposta. Questa situazione di creare densità per poi ricercare l'ampiezza è stata anche la soluzione per trovare il gol del 5 a 1 anche se ovviamente la situazione della partita a livello di risultato era già compromessa però la tendenza è stata sempre quella quindi con 5 giocatori sul lato sinistro per poi andare a ricercare Di Lorenzo dalla parte opposta che va a puntare Costice liberando Elmas in estrema ampiezza sulla destra che poi andrà appunto a segnare il 5 a 1. Come detto la Juventus nella fase di non possesso è rimasta molto passiva e quelle volte che ha provato ad aggredire più in avanti spesso è risultata scordinata con Locatelli che non arrivava sul play avversario e quindi Napoli ha avuto vita facile nel gestire il pallone anche sotto pressione nella prima costruzione coinvolgendo Meret e nelle poche situazioni in cui i bianconeri sono riusciti a mettere una discreta pressione sul portatore di palla una soluzione è stata anche quella del lancio lungo diretto per Ozyman che quando viene lanciato in profondità è stato efficace come in questa situazione nel secondo tempo ma in altre occasioni ha perso il pallone e proprio su questo sentiamo le parole di Spalletti in conferenza stampa post partita Se andiamo a giocare sui duelli, sui contrasti, se andiamo a giocare su questi palloni di nessuno che vediamo chi se lo porta a casa, di quelli lì noi ne perdiamo diversi abbiamo perso quei tre mezzi contrasti che possono essere nostri e possono essere loro e ci abbiamo preso gol perché non sappiamo fare quella cosa lì per cui bisogna passare da quell'altra parte nel senso che bisogna giocare qualsiasi sia il momento della partita non bisogna giocare stasera abbiamo perso diversi palloni che potevamo gestire meglio però quello è il nostro DNA quello è ciò che dobbiamo assolutamente cercare di fare l'attacco dello spazio e della profondità del numero 9 è stato molto importante anche in questa partita soprattutto in fase di sviluppo con la Juventus sotto la metà campo Locatelli era più portato a pressare in avanti e cercare un riferimento, un centrocampista per mettere pressione e di conseguenza un difensore laterale aveva il compito di rompere sul giocatore fra le linee e proprio alle spalle di questa rottura Ozyman è stato ricercato più volte come in occasione del gol del 2-0 dove Di Lorenzo gioca verticale perché ha molto spazio rispetto alla mezzala impressione e Politano di prima va a cercare Ozyman nello spazio alle spalle della rottura di Aleksandro su Zielinski poi anche fortunosamente vince il duello con Bremer e va a servire Varadzchelia per il gol del 2-0 Tornando alla statistica iniziale della percentuale del possesso palla la Juventus ha avuto così poco controllo del gioco anche molto grazie alla pressione del Napoli che è sempre stato molto aggressivo, molto deciso e sin dai primi minuti ha fatto vedere questa sua caratteristica dove tre attaccanti vanno a gestire i tre difensori bianconeri e gli esterni bassi arrivano fino sui quinti avversari con tutti i giocatori molto intensi nelle loro corse che obbligano gli avversari anche a commettere degli errori oltre a questo anche i due difensori centrali sono molto aggressivi in avanti nelle rotture in particolare Kim su Di Maria è entrato spesso in maniera molto decisa ed è per questo che il coreano è stato il giocatore con più contrasti con più respinti della partita e con due passaggi intercettati meno solo di Danilo con tre proprio da questa pressione e questa aggressività arriva il primo gol del Napoli con la rottura tanto per cambiare di Kim su McKennie e poi ancora Lodbotka che vince la seconda palla e quello che abbiamo visto nella prima fase del video del possesso del Napoli con dei passaggi corti, veloci, densità sulla zona sinistra per poi giocare dalla parte opposta e la combinazione perfetta fra Di Lorenzo e Politano e il cross per Varazchelia che porterà al gol di Ozyman anche il 4-1 deriva da questa volontà di determinare di essere padroni della partita il merito in questo caso è principalmente individuale di Mario Rui che appena Varazchelia perde palla fa una corsa di 50 metri per arrivare sul pallone e andare a mettere in difficoltà Bremer il pallone torna sui piedi del Georgiano che con un cross perfetto trova ancora Ozyman all'interno dell'area di rigore per il 4-1 la Juventus in tutta la partita non è riuscita ad effettuare una pressione coordinata ad eccetto di una situazione al 28esimo dove i tempi sono stati buoni nelle uscite McKennie su Kim, Chiesa su Mario Rui e la rottura di Danilo su Varazchelia che ha permesso di riconquistare il pallone in fase di possesso però non ci sono mai state vere idee le uniche difficoltà per il Napoli sono derivate dal posizionamento di Di Maria che scendeva spesso nel campo andava a ricevere i passaggi e cercava di verticalizzare e non a caso proprio sul finire del primo tempo in quel momento della partita in cui la Juventus era riuscita ad avere una piccola reazione proprio il giocatore argentino è riuscito a segnare anche grazie a un paio di rimpalli fortunati l'unico gol dei bianconeri in questa partita bene ragazzi questa è stata l'analisi di Napoli-Juventus 5-1 fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita se il Napoli secondo voi vincerà lo scudetto e noi ci vediamo in una prossima analisi tattica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti